c'è tutto di quello del bagagliaio stavolta a livello di radio hai visto che hai cominciato a tagliare l'erba? tra un po' vanno avanti ah buono dai vai dai giro ma provanziamo io dai ok no no lanciano pure se vuoi io io mi metto a distanza di sicurezza questa volta se lo lanci tu è già pronto guarda è già pronto prova ah ha lanciato fuorché forte dai dobbiamo fare così che gira la testa in mezzo alla velocità mi ha perso oh bestia questo qua cos'è? elevator porto cani perché faccio così poco l'elevator? ma ti viene girato verso di me Marco? adesso non c'è più vento lo saldo e però non ho sistemato questo io eh lo saldo lo saldo va bene così così va preso dietro quasi sul fondo per spingerlo davide sta poco in qua davide sta poco in qua eh sì mi sa anche a me mi sa anche a me è sbilanciato però gli elettoni ti dirò sono uno spettacolo aspetta no 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 vai vai stesa tutto il culo così sì c'è anche una bella aria però eh e ogni tanto sento sì è è è è è è è è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.